Bentornati in Soffitta, oggi scopriremo insieme un altro personaggio edito dalla Furio Vianno di Tore sto parlando di Elga, l'amazzone della guerra, scritto da Luigi Naviglio e disegnato da Ingham Enzo Magni fumetto pubblicato nel 1969, un pocket che vedeva però l'ambientazione durante la guerra infatti il sottotitolo è Elga racconti di guerra fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate buona lettura Grazie a tutti! 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 a tutti!